Racconta l'impegno della tua impresa nel tempo dell'emergenza. Mai come in questo periodo le imprese hanno dimostrato la loro capacità di essere sostenibili, vero? Certo, e devono valorizzare quello che hanno fatto, con continuità ed efficacia. Lasciami spiegare. Le imprese oggi sostengono la lotta al Covid-19, mettono al centro le persone, la loro salute, la loro sicurezza, attivano nuove e più efficaci forme di welfare, supportano le filiere e le catene di produzione, rafforzano i legami con il territorio. Raccontiamo tutto questo con i video, lo strumento più efficace per dare valore al tuo impegno attraverso la viva voce dei protagonisti, con immagini, grafiche e parole chiave per raggiungere persone, clienti e partner. Fai vivere la tua sostenibilità.